Apri bene gli occhi e gioca a Trova i Pesci se ci riesci. Ecco come funziona. Guarda gli episodi di SpongeBob tutti i giorni su Nickelodeon e cerca ogni volta dei personaggi nuovi. Quando li avrà individuati tutti, vieni a giocare per trovarne altri ancora. Ogni settimana un nuovo livello bonus verrà sbloccato. Preparati a giocare a Trova i Pesci se ci riesci. Grazie a tutti.